Buonasera a tutti, a tutti coloro che sono qui con me adesso, a coloro che arriveranno più tardi, a coloro che rivedranno questa live su YouTube, per una volta vi sono ricordata anche di voi e di salutare quindi tutti. Buonasera a tutti, io sono Jul e benvenuti alla balla, stasera ragazzi viene giù il mondo, il suo vecchio nome, non darmi mica di lei, mi sento una vecchia, già lo fanno i ragazzi a scuola, poi mi sento proprio come quando mi chiamano signora, allora no no io ti chiamo May, è anche una bella dedica al vecchio canale, mi piace, mi piace. Allora May, la chat ha voglia di sapere se tutte queste primo gems le hai shoppate, le hai risparmiate, insomma un po', vogliono un po' farsi i fatti tuoi, racconta un po' la chat. Purtroppo, eh purtroppo tutte queste bellissime primo gems non sono free to play, però c'è da dire che tra una settimana e un compleanno questo investimento secondo me ci sta. Allora, che comunque... Vai vai vai. E comunque ballo un personaggio che mi piace molto, penso che se un vero nome si possa anche dire perché è stato rilevellato nei trailer che è proprio EI. Allora ragazzi, prima di iniziare una cosa la voglio dire, dopo ti lascio la parola May, però una cosa la devo dire, mi raccomando ragazzi, stasera vedrete diversi account che hanno delle risorse non free to play. Per fortuna qui su Twitch siamo delle personcine a modo, spero che non spuntino delle personcine meno a modo, eh. Ognuno spende i suoi soldi come vuole. E io assolutamente non voglio che gli utenti che ho invitato a partecipare a questa live vengano in alcun modo denigrati o affini. Sarò implacabile, eh. Anche Shai è lì implacabile. Quindi per favore rispettiamo le persone altrui anche perché non le conosciamo e quindi... Portiamo rispetto. Perché purtroppo questa è una cosa che su YouTube è un morbo che non riesco ad estirpare. Qua sembra che se spendi su Genshin sei un pazzo, poi magari puoi prenderti 80 pacchetti di sigarette e va tutto bene. Ognuno spende i soldi come vuole. Ok? Ok. Detto questo, May, vai. La parola a te. Ok, innanzitutto vorrei fare un piccolo commento sul team che ho preparato per questa vocazione. che abbiamo Razor, che è un cane, a ballo piacciono i cani, sappiamo che è un suo punto debole. E poi abbiamo Kaja che è un ricercato di Inazuma, direi che sia una preda abbastanza... Sì? Sì, avanti! Ehi, ma dove sei? Ho sentito Razor. Hai sentito Razor e sei arrivato? Ehi! Hai fatto la parola? Ah, Razor. Tu ci sei? Razor ci sei? Cosa è un cravatta? Giacca, è un tanto. May a Razor ci sei. May a Razor ci sei. May, Shai, per favore, bannalo. Ma... No, dobbiamo pullare per lui! Facciamo senza disco, non è passato? Intanto, prima di iniziare voglio dire cosa mi interessa. Ah, giusto, ma io sono completamente pazza, giusto. Vai. Ok, l'obiettivo... Diciamo, favorito sarebbe fare Balci 1. Però c'è un 50 e 50. Se dovessi perderlo, omona ojinno. Speriamo. Le fanciulle, tranne Cicci. Le fanciulle cresciute. Prima multi da 51 a 61. E esce subito, eh, il primo 5 stelle. Quindi state carichi. Super bless. Spero di portarti fortuna e andiamo a vincere questo 50 e 50. Io ci credo. Via con la prima multi. Ok, mi sembra che non ci siano lag particolari. Anche ci credo, dai. Partiamo con un 4 stelle. Speriamo di tirarne fuori due. Lancia. Grazie. Siamo già a 51, eh, Fra. Questa è la multi per andare a 61. Sarà, 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 sarà. È necessario scartocciare i miei cracker. Basta! Guarda che hai anche fatto attaccare Eula. Dai, un bel 4 stelle. Un bel 4 stelle. Bello! Cos'è? Eh, eh, ma che la morte non sei? Basta, Ben. Cos'è, Ben? Ben C7 dal biedro. E nell'ultimo banner che è stato in rate up l'ha fatto C13. Quindi, basta, Benet. 67, 66. Oh! Ha lagato! Ha lagato, ed è... No, però potrebbe essere Sara. Potrebbe essere Sara. Oh, Sara. Sì, Melset, Melset, ti voglio bene, ti voglio bene, Melset. Melset, guarda... Non è Sara, però inizia con la S e ci serviva. Su Kroos mi va bene, su Kroos mi va bene. Su Kroos mi va bene? Voglio non flip. Sì, sì. Io non posso farlo, perché quanto vuoi non può farlo. Che cringe. Non tanto mangio. Eh, ma che cringe, sempre che cringe, che cringe, che cringe, perché non usate Debringe. Dai, Sara! Usate un'altra lettera. Sara! È dato un bellissimo nome, Sara. Siamo a 71. Tu ci sei, fa esplodere il mondo. Allora, adesso May, la decisione è tua. Prima di fare sempre la multi, dico di stare attento alle vostre vecchie, perché potrebbero partire delle urla poco virili. Tu puoi fare tutto quello che vuoi. Ah, no! Arriva Ball. Guarda qua, due Ball. Tac. Che due Ball! C'è uno! Che due Ball! Oh! C'è uno! Sì, Fran. C'è uno! Per favore. Per me è di due. Anche due. Ho detto, per me è di due. Fra, ti odio. Ti odio. Sei un cane. Sei come reggo. Fra, puoi gufarla per due? Guarda, guarda. Che non su nessuno. Bene, dai. No, Francesco stasera ho l'ammazzo di botte. Dai Ball. Sono tesa. Sono sinceramente tesa. Dai Ball. Dagliere. Ball. Voglio vedere, voglio vedere la mega icona nera. Ehi, ehi. Ma tu chi sei, Ball? Ball. Guarda con la faccia, è anche un po' rinaccia. Ball, Ball. No! 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 Ti ha scritto Godos? No! No! Non si scrive Godos! Non si scrive Godos! Non si scrive Godos! Credevo fosse... Ma chi è che si scrive Godos e Cicci? A questo punto era meglio Diluc. No, era decisamente meglio Diluc. Dai! Cicci 1. Dai! 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 La peggio... Si può giocare Cicci adesso? Piaggia. No, bravo. Ma è il lato positivo. E poi non è la prima che trova. Poverino. Cicci è stra-carina, però dai. Adesso è il ballo garantita, però più 5 minuti. Non sei neanche stuccaldi. Ma, oh, ma dove sono i 4 stelle in rate-up? Vabbè. Aspetta, eh. Dov'è la mia Sara? Sara! Un po' di Tinder. Sara! Va da... Bacuriana. Sara! Le spade della fortuna. Il mio mattarello. Un altro mio mattarello. Seconda buca, via. No, adesso faccio io. Tu non sai pullare. No, no. Adesso però... Sono pronti? Via. Oh, 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 è qua! Oh, Sara! Che cammini sotto il sole! Hai deciso di partire! Per cercare un'altra vita! Oh, sì! Da seguire! Sì, è grande! Oh, Sara! Giulia! Canta Giulia! Hai visto? Grazie Giulia! Un po' meno grazie. Sei la migliore anche cinquattro! No, devi cantare quello di Menebuzzi. Sara, vive da sola, studia e poi lavor... Anche se trovi, ci va bene... Sara! È qui con noi! Sara è più grande della sua età! Sara! Oggi è più la tua... Terza! Terza! Io voglio la terza! Voglio la terza! Dov'è la terza, Sara? 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 Dove sei? Io comunque sono fortissima con i nuovi... Io con i nuovi quattro stelle... Ragazzi, io i nuovi quattro stelle li becco tutti! Let's go! Scusateci se stasera siamo ubrigachi, ma... Io sono arrabbiata per quello che è successo ieri, sono veramente arrabbiata. E Francesco lavora dove c'è troppo vino. Ah, ma quindi il contattore ieri quando te lo spegnevo e riaccendeva, non mi mandava la luce? Cos'è sta roba? Questa è di là! Questa è di là? Cos'è sta roba? Ah, sta arma mi perseguita. L'ho fatta in cinque più in... È la tua Dragon's Bane, insomma. Questa è la terza. Mamma mia. Studi e poi lavora. Kanuki, la conosci? La conosci allora quella di Meneguzzi? Tu studi e poi lavora. Chissà dove è finito Paolo Meneguzzi? Forse Paolo Meneguzzi in questo momento ci sta guardando. Val, dai, Val, esci. Val, esci, ti prego. Aiuto. Lei ti serviva? Una? Non dire so. L'abbiamo fatta c6? Sì, me ne serviva una. Non dire so. Chal-ling, il suo... A lei mi piace anche il nome. So... Il suo so... Il suo sorbetto, perché lei fa il sorbetto. Cucina. Non fa il sorbetto, no, ma dai. Siamo a 40? Dobbiamo andare a 50, mi pare. No, comunque ragazzi, a parte gli scherzi. Io sto cercando di mantenere... Bella! Ma questa è di là! Ma perché trovi la roba che sta di là di qua? La posiare su balla questa, dai! Io non lo... Ho la Skyward Spine su balla. Ecco, alla Skyward Spine. Non è come noi, come noi e te. Due poveri. Amber C4? Ne faccio anche a me. Non è un Salinga. Amber C4. Dai, ma dai, però... Ma tu devi far pullare questo qua, però. Non è giusto. Allora, Francesco. Sei un privato. Vengono qua a flexare i personaggi che vogliono. Ma fanno bene a flexare, ce li hanno! Ma ho capito, ma non lo sanno che è la mia preferita. Dai, 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 dai! Sara! Oh, Sara! Che cammini sotto... Certo che è la Sara di Genshin che cammina sotto il sole, no? Hai deciso di partire. Ma tanto, con i suoi capelli a parasole. Oh, non è Salinga, no? Sì, fra, però... Ok. Dai, va bene, è su crosswalk. Va bene. E mentre Francesco se ne va, ragazzi, è il momento di trovare balla. Mi senti, Giulia? Sei... Sì, sono d'accordo. Mei, andiamo, eh. Let's go. Questa... Questa va bene. Mi sa che è lei, è lei, è lei. Yes! Uso questo, giusto. Ok. Vai a prendere quelle col filo. Vai a prendere quelle col filo. Allora, su cross... C'è anche Sara qua, sta a vedere. Ah, intanto... Vai, che bella. Eh, eccola. Sara, che bella. Guarda che bella. Dammi un'altra. Bellissima. Tutti in chiesa! Sì, Rosaria va benissimo, Rosaria va benissimo. Chiesa! A meno. Valci zero. Vuoi che andiamo avanti? Sì, andiamo avanti. Vuoi spendere tutto. Avanti. Se non riesco, vedo il futuro. Avanti. Tra l'altro, forza e coraggio. Anzi, meno dell'1%. Aiuto. Anche Sara, se mi esci... Esci anche Sara, io sono felice. Dai, Sara, 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 Sara. Io ce l'ho nelle mani, ragazzi, stasera. Stasera ce l'ho nelle mani. Grande. Grande. Stasera sto pullando... Stasera ragazzi sto pullando come Cristo. Non mi potete dire niente. Non mi potete dire niente stasera. Stasera sto pullando come Cristo. Bene. Bene su cross. Vabbè, ma... Quanti? Quanti ragazzi? Quanti? Ah, aiuto. Ma poi quella spada è veramente la persecuzione. È la persecuzione. The Royal Blade, te l'auguro. No, non ti batto con le Dragon's Bane, però ci siamo quasi. Se pensi questo farà non leggere la descrizione del mio profilo, che ho messo una propria doc per ballo. Oh no, dopo lo guardiamo. Ah, ok. Julix, Tinder. Tinder sapete che non l'ho mai usato in vita niente? Ah, su ti sento. Chiudiamola. Sì, sì, adesso Francesco sente. Collab con Tinder. Ma non l'ho mai usato. Come faccio a collaborare? Dai, 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 dai. Ah, solo saccarosa. No! Val! Bello, niente. No! Beh, oh. Beh, non è... È la mia prima Dragon's Bane. Dai. È la mia prima Dragon's Bane. C'è sempre la prima volta. È bellissimo la prima volta. Ah? No, Francesco, guarda, veramente, io... C'è, 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 c'è. Faccio Max? Li prendo tutti? Sì, sì, va bene. Vabbè, come vai? Dopo proviamo a chiamarla Ehi. Vuoi un'altra Dragon's Bane. Esatto, dopo dobbiamo provare a chiamarla Ehi. Io ovviamente, ragazzi, non sapevo di... Ma ti immagini che non c'è? No, vabbè! Questo è meme. Ci sei. Ci sei. Cioè, ti immagini che magari... Questo è veramente meme. ...el tempio. L'ha preso dallo shop ed eccolo. Come il tempio che provano a chiamarla. Ehi! Ehi! Ma Francesco così non arriverà mai, ci sta odiando. Ci tira lei. Lei non vuole venire dai meme. Dai, Bal! Ehi! Ma cos'è? Vieni qua, Ehi. Ehi, vieni qua. Perché? Perché dobbiamo soffrire così? Vieni qua, Ehi, ehi, vieni qua. Perché dobbiamo soffrire così? Uè, Sara! Sara! Beh, con le sare siamo messi bene. Siamo a 57 con questa. Grazie, Guntra, sempre sul pezzo. E tante Sara. Cos'è siamo? C3? Sì, ma... Ma se ti voglio tanto bene, però... Se il resto non mi riesce Sara, te ne voglio un po'... Se non mi riesce Bal! Te ne voglio un po' meno. No, tu sei ossessionato... Tu sei ossessionato da questo numero, che non voglio dire, perché poi tu sei felice, che lo vedi l'ora, che io lo dica, per poi dire nice. E tra l'altro, quel numero è stato nel mio UD. Sì! Infila, infila. Siamo quasi a C6, eh? Oggettivamente a livello di 4 stelle stiamo pullando da Dio. Oggettivamente. Anche io vorrei... Ah, la mechiching sarà molto felice. Mamma mia, con Sara. Mi sa che è C4, Shai? No. No! Siamo a 77. Aiuto. Ancora. C5. Sara è C5. Mamma mia, Sara. Eh, aiuto. Niente, siamo a 77, ragazzi. Siamo sul bilico di un burrone. Sì, di fianco ai messaggi c'è l'icona del beat, che permette di... Però, ragazzi, non ce n'è bisogno. Esatto. State tranquilli, fate come volete. Io vi ho detto del subtember, perché è una cosa, secondo me, molto vantaggiosa. Per tutto questo mese, gli abbonamenti costeranno il 20% in meno. Ah, wow. Ok. Per cui l'ho detto, e lo metterò anche come... Lo metterò anche da domani, perché parte da domani. Per cui, se devo incitarvi a fare una cosa, è a fare la sub assolutamente a settembre. Detto questo, andiamo di singole adesso, May. Dai, Bal. Dai, Bal. Ti prego, Bal. Per favore. Dai, Bal! Bal, 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 Bal! Vieni, vieni! Ehi, 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 vieni! Per favore. Sì! Let's go! Ok? Grazie, Giul. Anche se mi hai pochino spoilerato Bal, però va bene, sto felice, è uguale. È vero, sto. Let's go! Let's go! Così si fa! I 50 e 50 non sono più miei nemici, almeno la prima volta, qualche volta scappano. Eh sì, è proprio sul tetto della sua casa. ed è inoltre un bel posto da cui lanciarsi e suicidarsi ecco no si è salvata come si vola dammi questo onore grazie Reido ammazzala Reido grazie mille per i plus facciamo una defenestrazione davanti subiti dai 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 defenestrazione davanti alla nazione defenestrazione davanti alla nazione sembriamo due ubrani vai vai lunga vita a ball sii ma le rotule vanno le rotule volano ma deve morire anche Reido no no detto questo Mei ti saluto grazie mille per aver partecipato grazie mille per aver partecipato e ci sentiamo in chat ci sentiamo in live magari prossimamente a un'altra night spero di averti accontentato dai speriamo grazie caro è il momento di enunciare alla chat che cosa vuoi e dove andiamo a pullare ah queste sono le primo gems queste sono le risorse quasi tutte free to play ragazzi volevo che ve lo dicesse lui io lo sapevo volevo che ve lo dicesse lui questa è la dedizione hai visto franci questa è dedizione anche un po' masochismo almeno nel mio caso sono tutte free to play quasi tutte free to play ma che cacchio dici che tenete a te mio oio quelle allora prima molti diamo un'occhiata al pity diamo un'occhiata al pity abbiamo trovato eula è da eula che non pull siamo a due prima molti evidentemente esiste la dark mode shy io non lo sapevo dodici di quattro stelle chi vuoi grazie caro immagino che tu non abbia sara e non so come sei messo con le altre due mamma mia uno scipione ma come fate a non pullare da tutto sto tempo tanto qua c'è sara vero che c'è sara vero che c'è sara vero che vogliamo sara vogliamo la lady della notte no questa non è la lady della notte questa non è la lady della notte questa non è la lady della notte vabbè doppio quattro stelle purtroppo niente sara direi che possiamo procedere facciamo un'altra multina andiamo a 22 palesemente l'occhio di ball sì però noi non vogliamo l'occhio di ball noi vogliamo ehi la vogliamo qua la vogliamo qui sul palmo della mano 22 dai sara 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 funzionerà sara sembra il verso di un pokemon sara 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 si lo so lo so sto facendo gringare me non mi porta la chat se si yes sara nuovo digimon E' vero Lei è One Wind Angel Bisogna cantare One Wind Angel Facciamo un altro multi E deve uscire Sara 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 Facciamo un altro multi Tu sei cringe Siamo a 32 C'è un 50-50 da vincere ragazzi Ve lo ricordo Allora siamo a 32 Si va a 42 Penna viola Penna viola Penna viola La tocco La scaldo Dobbiamo tirare fuori Ball Dai Ball Su Vieni fuori Ball Vieni fuori Ball Ball Questa è Ball Questa è Ball No Siamo a 42 Ma allora è Diluc No è Ball Ragazzi oggi sto evocando come un drago Oggi sto evocando come un drago Oggi non mi ferma nessuno Allora Primo 5 stelle Ehi 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 Dai ehi vieni fuori Ehi vieni fuori Dobbiamo vincere un 50-50 ragazzi Ma oggi sono calda Oggi sono carica Qua c'è Ball Qua c'è Ball Vero che c'è Ball La devo smettere di cantare One million angels Dai Ball Dai Ball Dai Ball 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 Ehi 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 vieni Ehi vieni Ball Allora Se ti fai vedere Ti do la mia visione Io c'ho una visione Corri Ti do Ti do il mio Ti do il mio Il mio indirizzo Così vieni a prendermi la Ball Te lo giuro Ha funzionato Ok Bastava dare l'indirizzo Ehi ehi Scherzavo non ce l'ho Mi piace Non ce l'ho Ma come no Ehi non ce l'ho Ma come no Adesso lo dai 50-50 vinto Let's go Io anche posso pullare così anche sul mio account ragazzi È stato un piacere caro Voilà E la prima ce l'abbiamo Ora bannerarmi Allora Fai una multi a Grazbad Dai No Titano A me Cioè nel senso Io vado Lo dico solo per Twitch Che Francesco pulla dopo Dopo pulleremo io e lui Ora secondo me dovrò fare tre video Sì io Io quelle primo gem Scusate ragazzi Io non ce l'ho La prima volta Mi mancheranno delle armi Dai Allora Dieci Che ansietta Anziolina Che armi a 4 stelle vorresti da questo banner Graz Vuoi la Dragon's Bay? Ti do la Dragon's Bay Vuoi la Dragon's Row? Lion's Row Beh è in Raid up però È in Raid up È in Raid up Ma perché? Eh Questa è una super balda Raid up vai pure Però dopo torna Tanto saremo ancora qua Perché non troviamo anche qua Perché non sculacchiamo anche qua Un bel Razorino Tu vuoi trovare Raid up? Io vuoi trovare il Razor Io sono Vuoi salare così? Non ho ancora pullato Dopo pullo io Se pullo io per gli altri Ocus Dopo devo pullare per un altro ragazzo E poi andiamo io e Francesco Noelle Questa è colpa mia Questa è colpa mia Ah ragazzi sto abbizzando anche io Noelle Bravo Bravo Anche Francesco si è convertito Al Noellinesimo Sì voglio provare il set Nel giro certo Eh lo so che il viola su Zong stona Però Mena Eh Noelle chiama l'Unforged Eh Noelle potrebbe chiamare l'Unforged 50 Video sui vestiti di Noelle Annalisi dei vestiti di Noelle Grazie dimmi tu Io vado Vado finché non troviamo la prima arma Poi mi fermo eh Video analisi sulla dieta di Noelle Smettila Video analisi delle coperte di Noelle Come le piega Sì è vero Lilith Qua stiamo schivando la De Bell Alla grande No Francesco non si può odiare Noelle Non si può odiare Noelle Vado vado eh Video di Noelle Analisi di video Noelle Noelle che fa analisi di se stessi Ci lasciamo Ok Ti lascio Basta Ciao sono Noelle Vi faccio l'analisi Occhio che divento cattiva Noelle che fa l'analisi di Giulio Ma Venezia è dovunque Venezia è dovunque Venezia è dovunque Stanotte non dormi Non mi hai letto Ti metto dormire Mi hai letto Aspetta Maledetto Ho lasciato il mio ragazzo per giocare a Noelle Potrei farlo Facciamo una multi Allora con questa multi Andiamo a soffitti Allora Francesco Devi tirare fuori la lancia No toccala Tocca la lancia Tocca la colpito È un po' È un po' molto Tocca la Sì toccala E va basta Stai dando troppo Guarda sta cosa Tira fuori la lancia Vai Fra Questa è una lancia Grossa come una casa È una lancia Grossa come una casa È una lancia Grossa come una casa Non la prendo io la lancia Fa vedere Fra tira fuori la lancia Dai No la voglio io la lancia Ti sei allenato Io non la voglio Mi sei allenato per me Tira fuori la lancia La lancia è mia Perché devo darla agli altri Tira fuori la lancia Se lui non la pulla Tu non la pulli No 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 E quindi lui la deve pullare Un altro wheelsit Ottimo Non sai pullare No vabbè Ma cosa vuol dire Non sai pullare Non la voglio per me Voglio pullare per me Questa è colpa di Francesco Ed è colpa di Luella Guarda ti posso consigliare Questa build con Razor Sparisci Vattene Vattene Grazie è andata così Dategli lo scudo Allora ragazzi Quest'arma è comunque Molto buona Ok Quest'arma è buona Io ci tengo a difenderla Perché molti la odiano È buona Mi rendo conto Che non sia la lancia La lancia è molto più versatile Della unforged Però è buona Sempre armi Andiamo avanti dal banner Armi ragazzi Aspettate che vi mostro Lo spadone Come si attacca È molto carina Poi sembra tipo un polaretto Sembra un gelatino A me piace A me piace un casino Mojito Mussolini È un bellissimo nome Se Giulia Attenzione È quello che dici Perché dire è bellissimo Come nome Avanti Venti Accelero ragazzi Perché se no Non ce la facciamo E poi ho la fortuna Nelle mani La voglio usare Guardala Guardala Giulia Come pulla Guardala Giulia E poi non venitemi a dire Che stasera Non sto veramente Aprendo i vulcani A due mani Tu non puli da me Io sto pullando A cannone Tu non puli da me Che forza È lei Sì ma non scorreggiare Non scorreggiare Tira fuori No Dai Giulia Beh a sto punto Vai diretto Andiamo a prenderci la lancia A sto punto Ce l'hai garantita È la lancia garantita Grassbad Andiamo a prendere la lancia Hai trovato uno degli archi Più forti del gioco Sì hai trovato un arco Della madonna Va bene Dai che c'è un altro 5 stelle Dai che c'è un altro 5 stelle Dammeni un altro Dammeni un altro Mamma mia Sei stato scambato Ma come pullo ragazzi Ma come pullo Così via In un secondo Grazza Andiamo a prenderci la lancia garantita Dimmi tu No bisogna Ah la prossima È la prossima Se non vi capita la prossima Niente ragazzi Vi ho dimostrato in questa live Come funziona il piti dal banner delle armi Pt20 Sì a pt20 Abbiamo trovato la seconda arma Pt20 Adesso Andiamo a prendere la lancia Vai Vorrei che succedesse così Anche a me ragazzi Multi 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 vai Stiamo pullando da dio Guarda 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 È la lancia È la lancia No Ci ho sperato Vado io Eh anch'io skipperei E chiun Ma come si fa a skippare Aspetta Tanto adesso c'hai la 5 stelle Ma che brutta Ma quindi lancia Lancia Ah ok Ma non mi conviene neanche più Mi conviene un'altra arma Mi conviene un'altra arma Adesso È garantita È la lancia È la lancia questa È garantita Vedrete come Vedrete come la magia Vi permetterà L'arconquest Non lo posso fare Kanuki Perché sono indietro Con la trama Le primo gem Sono finite Però abbiamo Una lancia Che è veramente Una ruspona È veramente forte Ed eccola qui E con l'aggiunta Ci vorrebbe una lancia Per le burst Poter tirare Ci vorrebbe una lancia E il team Supportare Grazie Io direi Che abbiamo sbancato Ti lascio Con queste 2000 primogems E guarda Do Aspetta Guarda come le sta bene Guarda come le sta bene È pure in tinta La lancia Adesso mettiamola in team Mi piace che Ormai sapete E vi mettete nei posti alti Tutti insieme Depenestrazione Davanti alla nazione Depenestrazione Davanti alla nazione Guarda come muore Soltanto il conducente Fatality Eccolo No Eula non si uscita Eccolo 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 Eccolo